Signore e signori, Sandra la guida, 3T1 la ripresa nel lato sinistro e 3T2 New Entry sul lato destro in visione. Abbiamo sbagliato strada e siamo prudati lungo la spiaggia, schizzate varie, ma la musica è giusta, è quel che conta. Peace and love! Grazie a tutti! E ora tutti insieme, ciao!